Il loro spettacolo per questa sera che si chiama Piazza Pulita Grazie, grazie agli amici di Malo grazie al sindaco Moreno Morsetti io non ho capito se questo serpente è vero oppure no facendo di sì, quindi è autentico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il nostro mondo, le nostre città, i nostri paesi grazie agli amici del gruppo Mascherato Malo che hanno aperto con i loro balli, la loro allegria ed ecco e con la loro allegria, i loro balli e soprattutto i loro colori grazie a tutti i nostri amici del gruppo Mascherato Malo Morsetti grazie a tutti i nostri amici del gruppo Mascherato Malo Morsetti e vorremmo tutti salire su questa macchina così colorata, così allegra, così divertente grazie a tutti i nostri amici del gruppo Mascherato Malo Morsetti grazie a tutti i nostri amici del gruppo Mascherato Malo Morsetti e la carnevale di Tiene è in diretta anche sui social sui social Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!